Cocinino Gagliardi, sconfitta netta qui dell'Alto Caserta a Soverato, 3-0, c'è stato solo in alcuni frangenti di gioco un Caserta che ha cercato di lottare punto a punto, ma nel complesso una squadra sempre votata all'inseguimento. Sì, diciamo che eravamo consapevoli di trovare una squadra molto aggressiva perché dopo due sconfitte consecutive era ovvio che trovassimo un Soverato arrabbiato, incazzato, è il termine giusto e noi siamo stati assolutamente insufficienti da questo punto di vista, cosa che invece nella partita di Trento eravamo riusciti a fare bene, giocare con attenzione e quindi giocarcela alla pari. Stasera abbiamo avuto un netto passo indietro rispetto alla gara contro Trento, ripeto, contro una squadra che doveva fare questa gara, quindi o accetti la sfida oppure è giusto che perdi 3-0. Lo abbiamo visto molto contrariato in diversi frangenti di gara, c'è stato poi un episodio addirittura all'inizio del terzo set, subito i primi due punti, 2-0, subito time out perché si era visto che chiedeva qualcosa alla sua squadra che non faceva. Sì, quando finisci il secondo set, 25-23, parti dicendo ragazzi spingiamo, ricominciamo a giocare con attenzione e ti rendi conto che su due palloni facciamo due fesserie enormi, è chiaro che devi cercare di dare subito una scossa che alla fine non c'è stata perché purtroppo abbiamo subito la grande voglia del Soverato di vincere e noi stasera abbiamo dimostrato di non averne. Infine siamo solo alla terza giornata ma i risultati di queste prime tre giornate che stanno maturando confermano comunque che su ogni campo quest'anno veramente è un'autentica battaglia tra virgolette sportiva perché basta un calo di concentrazione, di tensione e rischi poi di incappare in brutte sorprese. Sì, assolutamente, è un campionato dove non puoi permetterti di avere un atteggiamento fuori luogo o dei comportamenti rispetto alla qualità di gioco dell'avversario, di sottovalutare alcune situazioni del gioco dell'avversario. Quindi è ovvio che se lo fai prendi bastonate su qualunque campo e contro qualunque avversario. A noi era già successo nella prima giornata contro Olbia dove nel quarto set eravamo nella possibilità di chiudere e portare i tre punti a casa, non l'abbiamo fatto. Lì siamo stati bravi a giocarci il quinto, stasera siamo stati assolutamente insufficienti. Obiettivi di questa Volalto Caserta per questo campionato dopo la bella stagione dello scorso anno? L'anno scorso qui facemmo la partita più bella della stagione, quest'anno abbiamo fatto la più brutta. Se mi chiedi adesso gli obiettivi ti dico che in questo momento è cercare di ritrovare un pizzico di rabbia perché come abbiamo detto poco fa non esiste un campo dove se non vai a giocare con rabbia e determinazione esci indenne. Invece dobbiamo ritrovare questo e poi alla lunga capire che cosa saremo in grado di fare. Serena Bertone è una delle grandi protagoniste della vittoria di oggi, prima vittoria in campionato, ci si attendeva il riscatto e il riscatto è arrivato a un'ottima prestazione da parte di tutta la squadra. Sì, dopo le scorse due partite andate proprio benissimo, soprattutto l'ultima a Chieri, abbiamo un sacco voglia di riscatto e i risultati sono arrivati dopo il lavoro della settimana. Siete partiti bene ma la cosa positiva di oggi è che siete riusciti a mantenere intensità e voglia per tutto l'arco dei tre set, non avete avuto cali di tensione e quindi questo è anche un buon viatico per il futuro. Sì, soprattutto al terzo set non abbiamo avuto cali di concentrazione, era tutto punto a punto e abbiamo mantenuto la grinta e la voglia di portarci a casa la partita. Per quanto riguarda la tua prestazione, una buona prestazione in tutti i fondamentali, indice del fatto anche che sei sulla via della guarigione anche per quanto riguarda l'infortunio al dito. Eh sì, dopo l'infortunio meno male è andata bene e mi sono ripresa, ora ci aspetterà un lungo campionato. Coach Stefano Saia, arriva la prima vittoria in campionato per il volley soverato, grande voglia di riscatto in settimane, il riscatto c'è stato, una buona prestazione anche delle sue ragazze sin dall'inizio della gara, molto concentrate, quindi sicuramente un buon viatico, questo è un segnale di incoraggiamento rispetto alle prime due giornate. Di sicuro noi abbiamo chiesto, ci siamo chieste nello spogliatoio, un'intensità maggiore e un riscatto rispetto alla partita di Chieri. Questo è quello che è avvenuto oggi, ci siamo allenate tutta la settimana con grande intensità in difesa, con grande attenzione a muro e questo è il risultato del lavoro che abbiamo fatto. Un grande plauso alle ragazze che ci hanno messo veramente tanta grinta. Caserta ha finito con il 28% in attacco e questo è dovuto soprattutto all'intensità e all'ordine che abbiamo messo in difesa. Avete mantenuto una buona continuità di gioco nell'arco di tutti i tre set, avete condotto sempre nel punteggio, indice del fatto anche che la squadra anche dal punto di vista mentale non ha avuto cali di tensione, ha affrontato al meglio questo match. Se dobbiamo dirla tutta abbiamo avuto un calo alla fine del secondo set, in cui siamo stati credo quasi pari e poi siamo riusciti a portare a casa il set. Ancora siamo in costruzione, c'è stata una grande risposta delle ragazze, però ancora dobbiamo imparare a gestire i momenti di difficoltà che sicuramente ci saranno in questo campionato. Se noi spingiamo con questa forza quando giochiamo e quando attacchiamo le avversarie fanno fatica e noi ci mettiamo in una posizione privilegiata per poter condurre il set ma giocheremo anche contro squadre che ci risponderanno colpo su colpo e noi dobbiamo essere capaci di rispondere colpo su colpo. Segnali di incoraggiamento si erano prospettati in settimana da parte dei tifosi, degli affezionati, il pubblico ha risposto alla grande anche oggi, gran tifo, vi ha sostenuto sin dall'inizio, quindi questo può cementare ancora di più il rapporto tra questa squadra e il pubblico di Soverato? Il Soverato non è soverato se non ci fosse il pubblico, è una parte integrante, è una parte di cui noi abbiamo sempre bisogno in partita ma anche durante la settimana, sentire l'attenzione della gente e questi cori al palazzetto sono quello sprone in più a fare meglio e a fare bene in palestra.